Goal del Bayern Leverkusen Errore di Rick Arzor Io non ci posso credere Ma no, ma non ci credo È 2-0 E hola a Torosbelli e bentornati nel Pacex Oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video Oggi siamo qui tornati per la primissima volta Vi porto con me in un match di Europa League Oggi andiamo a vedere Roma Leverkusen Sfida valida per la semifinale di andata di Europa League Come li ha definiti De Rossi Loro sono gli imbattuti ma non gli imbattibili Ed è questo proprio il nostro obiettivo stasera Batterli a casa nostra Perché chiaramente farlo alla Bayern Arena Sarebbe una cosa veramente, veramente difficile Quindi speriamo per oggi Detto questo vi lascio al video, dagli Terza bagnata partenza fortunata Vai, scesi dal bus Ok, stiamo piano piano arrivando al gate nio Dai, ci siamo Ok ragazzi, salito ho trovato il posto mio perfetto per registrare la partita Niente, questa è la pista Entrano i giocatori nostri Forza Roma Leverkusen E ecco che entrano i giocatori dell'Everkusen Sentite un po' la reazione dello stadio Olè 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 La Roma Roma De Rossi De Rossi Dai, ci siamo Perché non hai lasciato mai me A te, a te, la mia fedeltà A te, la mia fedeltà Eccoli che entrano in campo L'Untero canta, tu sei la grande e grande hai da resta Unico grande amore di tanta e tanta gente che hai fatto innamorà Corsa Romale partiti Vabbè è un primo tiro, è un primo tiro Bello, bello Fallaccio di Tà su Lukaku che ripartiva in campo aperto, giusto il giallo Madonna, madonna l'avevo vista dentro Rick Angolo, angolo, angolo Nooo, nooo, traversa Traversa glamorosa, nooo Oddio, oddio l'avevo vista dentro, che paura, che paura Nooo, ma che sculo, gli hai pure rimbalzato addosso Goal del Bayer Leverkusen Errore di Rick Arzorp, io non ci posso credere Nel nostro miglior momento sembra un olore Che brutto, non ce lo meritavamo Si riparte dal risultato di 1-0 per il Bayer Leverkusen E gialla a Pellegrini, niente, se sta a mettere tutto male Mamma mia, miracolo di svilare Miracolo di svilare Miracolo di svilare Non so dove sia passata, ma mi ha fatto paura, ecco diciamo così Nooo, non ci credo Non ci credo By the way sto tipo al terzo hot dog che mangio perché c'è una fame assurda Adesso più che altro devo mangiare perché dopo questo brutto primo tempo un po' devo riprendermi A me non ci posso credere Ma guarda, sta a perdonare il ca... Dai 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 Sei bobo stupido Garsdorf Brava un carino Ma no Ma non ci credo È 2 a 0 Si riparte Fallo su Dybala, palla lontana Giallo a Cristante, fallo sulle partenze Doppio cambio nella Roma Niente, oh niente 4 minuti di recupero Ultimo cambio Dybala per Ebram Finisce qui 2 a 0 per il Leverkusen No E si conclude purtroppo così L'andata delle semifinali di Europa League Il risultato non rispecchia L'andamento della partita Perché la Roma in realtà ha fatto la vera partita Siamo stati sfortunatissimi negli errori di Sion Siamo stati singoli secondo me Abbiamo la possibilità di andare alla Bayerolera E scrivere la storia Ed è questo quello che proveremo a fare Da Ieroma Come sempre se il video vi è piaciuto Iscrivetevi, like, campanile Dal Precio se è tutto, bella